Ancora cinque minuti e poi si va a letto, d'accordo? D'accordo mamma Gran bel lavoro tesoro Faccio appello ai repitori di mio figlio, vi prego, se siete in contatto, se mi ascoltate, non fate del male al mio bambino, vi prego, non fategli del male Calma Chiunque abbia informazioni sul rapimento di Joey Williams è pregato di chiamare Tony? È ora di andare a letto Tony? 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 Grazie a tutti. Mangiate. Hanno rapito un altro bambino. Si chiama Tony Marshall. Ha 12 anni. Lo hanno preso di fronte a casa sua. Quattro bambini in quattro giorni. Ma che succede? Non ne ho proprio idea. Ma dobbiamo sbrigarci a scoprirlo.